Che bello è quando c'è tanta gente e la musica, la musica ti fa star bene E' una ridivine, è una rivoluzione quando ci si può parlare con una canzone Che bello è quando lo stadio è pieno e la musica, la musica riempie il cielo E' una ridivine, è una ridivine, è una ridivine, è una ridivine, è una ridivine Ciao mamma, guarda come mi diverto 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 Il 2008 Volley è la prima società di pallavolo dell'Ossola punto di riferimento ormai dalla fondazione nel 2008 fa sia il settore maschile sia il settore femminile ha una prima squadra maschile in serie D da ormai 17 anni perché abbiamo preso in eredità quella che era la squadra del DLF Volley del Domodossola e quindi diciamo che quando ci sono manifestazioni di questo tipo diamo sempre un supporto, ci piace promuovere la nostra attività sia indoor e poi ovviamente anche all'aperto sul Beach Volley c'è la possibilità di venire su sicuramente in estate periodo in cui magari il Domodossola è veramente caldo giocare qui sotto la pineta al fresco a mille metri di altezza e Paolo di Altair ha accettato la scommessa oggi il campo è qui da qualche giorno, tre giorni esatti primo torneo, prima partita, i ragazzi stiamo divertendo speriamo nel prossimo anno di utilizzarlo molto di più e divertirci qui a Domobianca tutti insieme